Io in realtà non sono un collaboratore scolastico, sono un noto ricercatore scientifico specializzato in meccanica quantistica e lavoro presso il Gesellschaft zur Förderung in Germania. Nei mesi trascorsi insieme il mio spirito vagava tra le equazioni di Schrödinger, i principi di sovrapposizione e di entanglement quantistico. Oggi sono a un passo dal dimostrare la teoria della telepatia quantistica. Anita, questo è grazie a te e alla nostra connessione umana che mi ha mostrato quanto profondamente possiamo essere intrecciati non solo a livello emotivo ma forse in un futuro non troppo lontano anche a livello quantistico. Sono certo di non dovervi tradurre questo passo di Seneca, non scole selvite di scimus. Per tutto quello che è stato vi ringrazio infinitamente con tutto l'amore che il mio cuore può esprimere. Siete frizzati, quindi avete capito che Garibaldi non l'ha proprio contatta giusta. Certo lo so viene da sorridere a guardare, a sentire certe cose, sembra che lui segua un copione ma in realtà non segue un copione e ve ne accorgerete. Grazie a tutti.